Era da almeno 15 anni che la neve non cadeva così precocemente su cima Grappa. Siamo solo al 19 settembre e sul Sacrario Militare, posizionato in cima al Monte Sacro alla Patria, sono già scesi i primi fiocchi accompagnati da forti raffiche di vento. Ecco la nevicata nel video girato dai ragazzi di Meteo Bassano e Pede Montana del Grappa. A causa della violenta ondata di maltempo abbattutasi nelle ultime ore su tutto il nord-est, la neve è tornata copiosa anche a Cortina e in molte altre località montuose. Già da domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con il sole che tornerà a far capolino anche sul Grappa.